Allora si fa un gran parlare dell'impatto che le opinioni delle persone hanno su chi le riceve, su chi riceve queste opinioni. Tanta parte, anzi direi tutto il bullismo virtuale, i leoni da tastiera, tutto il danno, tutto il malessere che ingenerano queste giudizie è proprio dato dal peso di queste opinioni feroci, abnormi, aggressive e chiaramente svilenti. E quindi tutto il focus in qualche modo va anche un po' sulla vittima, alla quale si consiglia di fregarsene, di passare oltre, di non badare. Ciò che si dimentica però, pur essendo banale come verità, è che le opinioni non sono dei punti di vista assoluti, esatti e oggettivi. Le opinioni sono appunto delle opinioni e cosa assolutamente più importante, essendo le opinioni dei punti di vista personali, ed è questa una cosa molto interessante per chi fa analisi comportamentale, è che le opinioni portano con sé, inscritte in loro, esattamente l'impronta della persona che le esprime. Ne deriva che ogni giudizio che viene espresso, affidato, dal più candido al più osceno, è una confessione che una persona vi sta rendendo involontariamente, suppongo. Una confessione di che cosa? Della sua anima, direbbero i più romantici. No, diciamo che si tratta della confessione di una personalità, di una storia, di una famiglia di origine, di problemi, di gioie e di dolori. Soprattutto di evoluzione o involuzione. Confessioni continue, confessioni involontarie, tanto più ciniche e cattive quanto più rivelatrici di chi bercia. Ma il disagio ha bisogno di farsi sentire e ha ben poco interesse di salvaguardare la privacy di chi infesta. Il bersaglio da colpire siete voi, ma ciò che vi lascerà è una parola, un gesto, quello che è, che racconta della lacerazione di chi vi ferisce e spesso anche del come e del perché è stato lacerato. Quindi, a meno che non ci atteniamo a categorie di pensiero molto sintetiche e stringate, la realtà è che non riusciamo a infilare, noi esseri umani, due righe compiute di dialogo senza che non ci si lasci sopra la nostra impronta digitale. E nella tragedia di chi giudica, di chi aggredisce, di chi pontifica, è così grande il prevalere del piacere di ferire, di soverchiare, di catechizzare, che ciò silenzia, ripeto, il fatto che stia dicendo di sé più di quanto si stia dicendo al bersaglio. Alla prossima!